14 punti di vantaggio, impietrito Pianigiani che chiama subito time out, parziale di 8 a giù, 2 per i nostri avversari, 2 minuti e 28, qui possiamo dire quello che vogliamo in panchina all'Italia, se i giocatori non decidono di cambiare strada è proprio da fare, da dire, da inventare, dipende da loro in caso, e le facce non mi sembrano quelle giuste. Altro non c'è da dire, è inutile che ce la raccontiamo. C'è bisogno che si tocca con un po' di dignità, con un po' di anima cazzo, nessuno fa un salto, un fallo con la palla lì, facciamo a cazzotti almeno, ma che cazzo avete dentro? Sotto schieno a schieno, quello che con l'abbiale, diciamo così, avrebbe portato anche voi intuito da casa, sulle parole di Simone Pianigiani, il momento più brutto di tutto il campionato europeo per la nostra attuale, la maggior scontazione del girone, siamo sotto di 14, ma soprattutto non siamo in cazzo. Siamo stanchi, non dobbiamo stare in piccolo da tre, dobbiamo andare a prendere i balli dentro, dentro, mangio contro, brutto in cazzo, mago su 5 basso, un'esecuzione, mandava qui, non qua, qui, mangio qui, mago qua, chiudono, centino per vincere, ma che andiamo, dai!